All'interno del portfolio Fujitsu la linea Primergy è la linea che va a occupare tutta l'area dei server basati su tecnologia Intel Industry Standard. Pertanto contiene server rackable dal singolo processore fino ai quattro socket sempre basati su processori Intel Xeon piuttosto che la linea Blade Primergy BX che appunto come dice il nome va a completare il portfolio di Fujitsu con i server Blade basati sempre su tecnologia Intel Xeon. All'interno della famiglia Primergy BX abbiamo uno chassis che può contenere fino a otto server denominato Primergy BX 400 e un altro chassis molto più espandibile che arriva fino ai 18 Blade ed è il BX 900. Queste soluzioni sono come dicevamo basate tutte su processori Intel Xeon e possono essere utilizzate per tutti gli ambienti che devono utilizzare sistemi operativi Windows, VMware, Linux, tutto ciò che appunto è certificato per la famiglia Xeon di Intel. Il portfolio di Fujitsu si completa con una famiglia di soluzioni storage denominate Eternus che hanno una storia di lunga data in quanto la famiglia Eternus è stata creata circa 30 anni fa in Giappone per rispondere a esigenze che erano legate all'ambito mainframe prodotto appunto da Fujitsu. Successivamente sono state estese per andare a coprire anche quelle che sono le esigenze delle infrastrutture del mondo open. Da circa tre anni sono commercializzate anche in ambito europeo e contengono una famiglia di storage che vanno dal più piccolo Eternus DX60 che può ospitare fino a 24 dischi fino al più grande 8700 che invece è scalabile fino a circa 3000 meccaniche quindi 3000 dischi e una capacità molto elevata di spazio disponibile. La caratteristica principale di questo storage è sia la scalabilità ma soprattutto il fatto che si basino tutti sullo stesso sistema operativo pertanto il più piccolo DX100 è compatibile con i più grandi DX200 e DX600 e con il DX8000 che sono le macchine più scalabili e c'è completa interoperabilità per quello che riguarda gli ambienti di replica tra i vari storage disponibili. Grazie a tutti.